Realtà virtuale per l'investigazione degli incendi. A cosa serve e come si realizza? La realtà virtuale ha diversissime applicazioni su diverse tipologie di strumenti. Nel nostro caso l'abbiamo utilizzata per fare l'investigazione degli incendi. In sostanza andiamo a simulare nella maniera più possibile e veritiera gli ambienti in cui i nostri operatori devono fare delle operazioni di investigazione e le andiamo a ricreare per cercare di fare in modo che i nostri operatori possano effettivamente capire come sono andate le cose. Non ci dimentichiamo pure un'altra cosa importante. È uno strumento che serve anche per la formazione di tutti i vigili del fuoco che devono fare l'attività di investigazione dopo gli incendi o le esplosioni.